Buongiorno, io sono Andrea Goltara, sono il direttore del CIRF, per chi dovesse essere connesso e non ci conoscevamo, siamo appunto da una venire ormai occupa di sostenibilità nella gestione dei corsi d'acqua e riqualificazione fluviale. Cosa intendiamo noi per riqualificazione fluviale? Quello che in ambito internazionale si chiama Ecological River Restoration, cioè qualsiasi azione che ha lo scopo di migliorare le condizioni ecologiche di un corso d'acqua e degli ecosistemi adesso connessi. La prima parte coincide con gli obiettivi della direttiva quadroacque, quindi in termini di direttiva 2060 stiamo parlando di che cosa? Di migliorare la qualità fisico-chimica delle acque o di azioni che migliorino la qualità biologica o la qualità idrologica e morfologica, su cui ci soffermeremo nel seguito. Migliorare in relazione a delle esplicite condizioni di miglioramento, quindi a condizioni che prevedono le stessi antropiche sui corsi d'acqua. La riqualificazione fluviale non si limita a andare nella direzione della direttiva quadroacque, quindi ci sono anche altri elementi di qualità non inclusi nella direttiva 2060 che possono essere oggetto specifico di interventi di riqualificazione, quindi ad esempio il recupero di habitat per determinate specie, quindi recuperare l'habitat del gambero di fiume, oppure ripristinare forme e morfologie che determinano l'habitat per la vifauna, che ad esempio nidifica lunghi corsi d'acqua, oppure la riqualificazione di habitat connessi a determinate specie o associazioni vegetali, tutto questo può essere considerato riqualificazione fluviale. C'è un elemento che è particolarmente importante soprattutto nella evoluzione della riqualificazione fluviale negli ultimi due decenni, è veramente focale, cioè quello che crea e mantiene gli habitat è la dinamica, quindi il corso d'acqua, l'evoluzione è nel tempo, il corso d'acqua, trasporti i sedimenti, abbia una dinamica di erosione, trasporto e deposizione e quindi evolva nel tempo. Questa evoluzione chiaramente si esprime in maniera diversa a seconda della tipologia di corso d'acqua e del contesto in cui ci troviamo, quindi in un corso d'acqua a canali intrecciati la dinamica e ad esempio come le barre ghiaiose evolvono nel tempo, quindi alla presenza e allo spostamento e quindi allo spazio necessario all'evoluzione di queste forme. In un contesto di fiume meandriforme di pianura vuol dire che il corso d'acqua ha bisogno di spazio per spostare i suoi meandri nel tempo, meandri che evolvono, nel tempo si interrano, si creano delle lanche, il fiume crea meandri altrove e questa dinamica è quello che è necessario mantenere per assicurare che nel tempo questi habitat si mantengano. La connettività, il fatto che la pianura inondabile venga periodicamente inondazione è fondamentale e quindi la riqualificazione pluviale punta a ripristinare questi processi che tendenzialmente vengono interrotti. Grazie a questa dinamica si mantiene quell'etrogeneità di forme, quindi in particolare del substrato, che garantisce la presenza di una fauna diversificata, quindi alla microscala ad esempio, a una mesoscala tutti gli habitat necessari alla sopravvivenza della fauna ittica. Quindi in sintesi la riqualificazione fluviale dove deve andare a concentrarsi laddove possibile? Nel ripristinare quelli che sono i fattori che determinano la morfologia e la dinamica del corso d'acqua nel tempo. Quindi le principali variabili guida su cui andiamo a concentrarci sono il regime delle portate liquide e il regime delle portate solide, con tutta una serie di condizioni al contorno che sono quelle che fanno sì che in funzione di un determinato regime il corso d'acqua evolva in un certo modo. Quindi la riqualificazione fluviale non consiste come forse diciamo nei primi tempi che si tende a fare nel ridisegnare un corso d'acqua. Io voglio un corso d'acqua che è in un certo modo rimane stabile nel tempo, il concetto di stabilità è qualcosa che è piuttosto lontano dalla riqualificazione dei corsi d'acqua, ma ovunque possibile nel ripristinare processi e dinamiche naturali e nel restituire al fiume lo spazio perché lui possa ricostruire e quindi in funzione delle variabili guida ricostruirsi le forme che è naturale che abbia. Quindi ad esempio azioni di riqualificazione fluviale possono consistere nel ripristino della continuità con la piana, quindi la continuità laterale, la continuità idraulica ad esempio, il fatto che la piana che si è formata grazie dell'inondazione venga di nuovo periodicamente inondata o la continuità in senso morfologico, quindi ad esempio la rimozione di difese che canalizzano il corso d'acqua e che consenta al corso d'acqua di evolvere lateralmente e ricostituirsi ad esempio in questo caso dei canali intrecciati che in assenza di spazio non è più in grado di mantenere. Associato al ripristino della continuità laterale c'è un concetto molto importante che rivedrete nelle slide di altri colleghi che seguiranno, c'è quello del ripristino dello spazio di mobilità, l'espace di liberté in Francia è stato definito, che consiste nel valutare l'area necessaria, quindi potenzialmente occupabile, erodibile dal fiume nell'orizzonte di pianificazione che abbiamo, confrontarlo con i vincoli sul territorio e definirlo a livello pianificatorio in maniera tale che in futuro il fiume sia autorizzato fra virgolette a occupare questo spazio, quindi la definizione di uno spazio di mobilità è alla base di una strategia di qualificazione fluviale a scala ampia come quella che vorremmo cercare di realizzare. Il ripristino della continuità longitudinale è altrettanto importante, quindi esistono lungo i corsi d'acqua decine di migliaia di interruzioni che siano briglie, che siano traverse, che siano dighe, che interrompono la continuità sia per la fauna, la fauna ittica in particolare, sia per i sedimenti che abbiamo visto sono fondamentali per fare in modo che a valle il corso d'acqua possa mantenere la sua dinamica. Quindi interventi di rimozione o modifica di opere trasversali sono tipicamente oggetto di azioni di riqualificazione fluviale. Ricordo anche, come ha detto Laura, che un elemento chiave della strategia per la biodiversità dell'Unione Europea per il 2030 è quello di recuperare 25 mila chilometri di fiumi senza interruzioni, quindi con continuità longitudinale senza alterazioni di reflusso, un obiettivo molto ambizioso ma su cui diversi paesi stanno investendo e allocando fondi in maniera specifica. Se vi interessano informazioni su questo, il sito di Dam Removal Europe raccoglie tutte le esperienze più interessanti di rimozione di sbarramenti e ostacoli traversali. Meno visibile ma altrettanto importante è il ripristino della continuità verticale, quindi il rapporto tra il deflusso superficiale e il porreico per tutta una serie di funzioni che questo svolge. Due in particolare, la ricarica della falda e la riduzione della temperatura. Questo rapporto, questa continuità verticale è stimolata dalla diversità morfologica, quindi se io consento al corso d'acqua di ricreare le sue forme, ad esempio le sue barre in un contesto di corso d'acqua canale intrecciati, l'acqua che si infiltra esce a una temperatura più bassa. L'alterazione termica dei corsi d'acqua è un problema che sta rendendosi sempre più evidente in molti corsi d'acqua anche italiani, con effetti sulla fauna anche molto veloci, quindi scomparsa di specie non legate a inquinamento, alterazione fisica, ma proprio alla temperatura che è aumentata troppo. L'importante, oltre a queste due variabili di guida che abbiamo visto, è la vegetazione riparia. Oggi potremmo parlare una giornata intera, ma per sintetizzare, la vegetazione riparia serve a fornire direttamente habitat, habitat, cibo, rifugio, a portare materia organica al corso d'acqua, ha un effetto filtro in relazione ai nutrienti che vengono dall'attività agricola, in maniera naturale l'erosione, quindi ripristinare la vegetazione vuol dire mantenere un tasso di erosione più naturale, eccetera, regolazione termica, eccetera, eccetera. Un elemento importante, spesso molto trascurato, è l'apporto di large wood debris, di grandi detriti legnosi al corso d'acqua, elementi che sono molto importanti, sia in relazione ai processi morfologici, a un ruolo molto importante, indirizzare l'evoluzione morfologica, bloccando sedimenti e quindi cambiando nel tempo la forma. Un corso d'acqua naturale ha molti detriti legnosi e questo, in assenza di questi, Andrea 5 minuti. Perfetto. Ma ha anche un ruolo di habitat diretto, quindi il legno flottante, il legno sommerso, costituiscono habitat per moltissime specie vegetali e animali. I fiumi italiani hanno pochissimi detriti legnosi, vengono asportati, il mantenimento di legnami in alveo è un tema molto delicato e che è molto difficile affrontare, ma di particolare l'importanza. Abbiamo visto l'importanza di ripristinare la dinamica, in molte circostanze i vincoli presenti, in una entrambe le sponde, quindi bisogna capire come massimizzare la funzionalità compatibilmente con questo contesto. È qui che le sinergie con l'ingegneria naturalistica diventano particolarmente evidenti. Un altro contesto è quello di bonifica, in cui per definizione questa dinamica non c'è. Lascio la parola a Marco, se vuoi Marco avanzo direttamente io le slide, così facciamo prima. Sì, va bene. Ok. Andrea, abbiamo mostrato quali sono le caratteristiche di corsi d'acqua naturali e su quali variabili possiamo intervenire per riqualificarle. Io vi porto un brevissimo focus sui canali di bonifica che sono corsi d'acqua artificiali, scavati nei secoli dagli uomini per recuperare spazio per l'agricoltura, scavati con la forza delle braccia, come si vede nella slide, e che occupano, che in Italia occupano circa, abbiamo circa 180 mila chilometri di canali. Ne abbiamo diverse tipologie, puoi andare pure avanti, i canali non sono tutti uguali, vi faccio l'esempio dell'Emilia-Romagna, su 20 mila chilometri di canali ne abbiamo 4 mila di scolo, cioè che servono per portare via le acque di pioggia del territorio, ma ne abbiamo 2 mila scavati per l'irrigazione, quindi con caratteristiche peculiari rispetto a quelli di scolo e addirittura 12 mila di tipo promiscuo, cioè che hanno funzione sia di scolo che irrigua. Vai pure avanti Andrea. Questa è la tipica sezione, quella precedente, di un canale di scolo, un canale trapezoidale, sfalciato, che non ha nessun tipo di dinamica morfologica, ma di fatto neanche ecologica. Vai pure avanti Andrea. I canali irrigui hanno una sezione simile, ma hanno la peculiarità che vengono riempiti d'acqua diversi mesi all'anno nel periodo estivo, diciamo da maggio a settembre, per poi essere svuotati e rimangono vuoti dall'acqua con continuità, cioè nel resto dell'anno, quindi con peculiarità abbastanza differenti. I canali promiscui uniscono questa doppia funzione, quindi se vogliamo immaginare di riqualificare i canali o di realizzare interventi di ingegneria naturalistica su di questi, dobbiamo tener conto di questo funzionamento differenziato. Vai pure Andrea. I canali soffrono di problemi analoghi a quelli dei corsi d'acqua, il rischio alluvionale, l'erosione spondale, la bassa qualità dell'acqua, la qualità ecologica e di solito come si agisce per risolvere questi problemi? Beh c'è la gestione, quella classica, idraulica ingegneristica, poi abbiamo la gestione, possiamo applicare una riqualificazione idraulica ambientale con il ri, tra virgolette, cioè tra parentesi nel senso che non abbiamo un riferimento a cui puntare per riqualificarli, decidiamo di qualificarli, di migliorarli dal punto di vista ecologico e anche idraulico e poi possiamo applicare le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Vai pure Andrea. La gestione idraulica classica non prevede di fatto attenzione verso l'ambiente, quindi se dobbiamo difendere usiamo materiali inerti e se vogliamo garantire il flusso dell'acqua risezioniamo e di fatto distruggiamo l'ambiente. Vai pure Andrea. Se vogliamo invece applicare i concetti della riqualificazione fluviale ai canali, di fatto possiamo decidere di trasformare i canali in corsi d'acqua simili a quelli naturali, quindi decidendo di dare più spazio ai canali per migliorare l'ambiente, avere meno rischio alluvionale, meno dissesto. Abbiamo diversi manuali che ci dicono come fare, alcuni che abbiamo seguito noi in Emilia Romagna e alcuni che sono stati già pubblicati in Veneto. Vai pure Andrea. Un esempio di intervento di riqualificazione è quello realizzato con il progetto Life Rinasci in provincia di Reggio Emilia. Siamo passati da un canale trapezio ideale a un canale in cui è stata scavata una banchina allagabile che svolge le funzioni della piana inondabile di fatto ricorsi d'acqua naturale. Questa ha funzioni idrauliche, le vediamo nella foto, ci aiuta a accumulare l'acqua e non esondare, ma ci trasforma in canale anche in un corso d'acqua più naturale, dove la vegetazione può evolvere. Chiudo con cosa possiamo fare con l'ingegneria naturalistica. Dove non ci possiamo permettere di ampliare la sezione dei canali e dove abbiamo ad esempio i problemi di dissesto spondale, possiamo utilizzare le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Qui vedete un esempio di copertura diffusa con astoni di salice che ha permesso di recuperare un'erosione spondale e trasformare il canale in un corridoio vegetato. Infine possiamo anche, questa è l'ultima slide, pensare, se dobbiamo ad esempio gestire problemi di dissesto spondale, di diminuire la pendenza delle sponde, quindi non realizzare necessariamente opere, ma diminuire la pendenza delle sponde, questo diminuisce l'erodibilità della sponda e favorisce la presenza di cannetto e specie vegetali. Quindi queste sono le peculiarità dei canali di bonifica e qui mi fermo per aprire la discussione. Grazie anche a Marco, tra l'altro queste linee guida sono molto belle, quelle dell'Emilia-Romagna, mi auguro che poi vengono effettivamente applicate, perché abbiamo dei casi in Emilia-Romagna dove veramente continuano a intervenire in modo classico, anche molto distruttivo, penso alla Savena, penso a vari corsi d'acqua che sono stati fatti a pezzi in questi ultimi anni. Grazie a tutti.